Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su Rise of Kingdoms Allora scusate se parlo un po' a bassa voce ma è tardi e non posso alzare un po' troppo la voce Allora sono qui, scusate un po' di casino ma sto registrando il video e sto facendo anche altro nel frattempo Perché il tempo è poco Allora, cosa voglio dirvi con questo video? E siamo rimasti con l'ultimo episodio dove purtroppo ci hanno distrutto l'alleanza Dove ci hanno distrutto l'alleanza a causa del tradimento della nostra alleanza Che non abbiamo mai valutato come alleanza però siamo stati traditi proprio sul punto un po' più clou del regno Da una parte è stato vantaggioso, da una parte è stato molto molto svantaggioso Perché si è un po' distrutto quello che si era creato Però questo è diventato un regno morto Diventato un regno morto perché ci sono soltanto due alleanze principali Che effettivamente stanno combattendo Combattendo Dio, sono tutte alleate Sono due alleanze principali che gestiranno il regno Infatti con questo video voglio proprio dirvi che ci trasferiremo di regno E cambieremo anche noi regno come hanno fatto tutte le altre alleanze precedenti In questo regno rimarranno solo quelle due o tre alleanze stupide E diventerà un regno morto per il KVK Loro in questo modo non avranno possibilità di gestirsi il KVK Perché come potete vedere la terza alleanza sono i GTOK Attualmente noi siamo uniti con loro Io sono in E-Time ma adesso non sto qui a spiegarvi insomma tutto quello che c'è dietro Però i GTOK, quindi l'alleanza GTOK Sarà la nostra futura alleanza È la nostra futura alleanza Siamo un po' qua, un po' là Siamo un po' sparsi nel regno Attualmente ma siamo tutti quanti rimasti in contatto Tramite Telegram, tramite Discord, tramite anche chat di gioco E praticamente questa GTOK si trasferirà nel nuovo regno Il 2239, andremo nel 2239 Dove abbiamo già contatti di altre alleanze Dove insomma per poterci trasferire dovrebbe essere un regno Teoricamente gestibile Naturalmente non sarà una nostra alleanza Sarà la loro alleanza Però noi faremo R4 barra R3 Insomma gestiremo anche noi l'alleanza Non credo che io personalmente mi metterò a gestire l'alleanza Ma non perché non voglio Ma non mi faccio neanche tanto avanti Io perché non ho tempo per poterci stare dietro Molto semplicemente Infatti anche con i video ho un po' rallentato Ma non per niente Ma semplicemente perché ho un po' meno tempo Io personalmente tra lavoro e studio Non riesco a fare tutto quanto Quindi sono un po' impegnato ultimamente Però lascerò la gestione da R4 Il mio carissimo amico quindi Shiryu Ormai lo conoscete anche voi E praticamente si metterà lui sotto gestione R4 E gestirà naturalmente anche grazie alla sua esperienza Noi dell'alleanza Perché abbiamo già collaborato insieme E diciamo che hanno visto il potenziale che abbiamo Ma già ce l'avevano visto Che praticamente quando eravamo nella vecchia nostra alleanza Quella che noi avevamo creato Infatti ci hanno eliminato apposta Perché avevano proprio paura Che potevamo diventare un problema in futuro Loro pensavano che Che magari gli avressimo causato problemi in zona 3 Per il trono e per chissà che cosa Ma le nostre intenzioni non erano per niente quelle Anzi noi non ci interessava neanche avere il trono Ci bastava entrare in zona 3 per farmare E basta come abbiamo sempre detto Ma loro non erano convinti di questa cosa E quindi hanno deciso di attaccarci Di farci distruggere l'alleanza Ma non è nessun problema Naturalmente tutto questo è successo Soltanto perché hanno una balena Non credo che ve lo faccio vedere Dopo me la faccio vedere Forse sì non ricordo Ad ogni modo ci trasferiremo nel 2239 Quindi in questo legno rimarranno Solo e soltanto due alleanze principalmente forti Perché come potete vedere dopo ci sono gli SSS GTPK che in teoria sono anche loro Alleati dei Time e dei GTO 0 Sono tutte quante in alleanza Da quello che ho capito E quindi in futuro diventeranno due uniche alleanze Perché i posti saranno il doppio di quelli Che ci sono adesso Quindi tutti quanti gli altri giocatori Delle altre alleanze Entreranno nelle prime alleanze Naturalmente chi crea il nuovo profilo Anualmente non entrerà in questo regno Quindi in questo regno non ci saranno nuovi giocatori E come potete sapere E se non lo sapete comunque ve lo dico Soltanto gli otto regni Antiadecenti e precedenti Si potranno spostare da regno a regno Ad esempio se il regno 2232 Si può spostare massimo nel 2240 Molto semplicemente Se io volessi andare nel 2241 Non posso andarci Perché c'è la limitazione Di non mi ricordo come si chiama Comunque non ci posso andare Quindi anche se volendo Loro non hanno la possibilità Di simulare altri giocatori Molto semplicemente Tutti quelli che c'erano Di tutte le altre alleanze Hanno fatto spostare Trasferire di legno Almeno 3-4 alleanze Noi saremo probabilmente La quinta alleanza Che ci sposteremo E saremo probabilmente Anche l'ultima E loro rimarranno da soli Per KVK E non faranno niente Rimarranno bloccati Nella zona Quella più scarsa Se non erro Doveva essere la zona 1 Adesso non me la ricordo E rimarranno bloccati E quindi A noi Diciamo che Ci è andata un po' di culo Perché molto probabilmente Durante il KVK Con queste due alleanze Non avremmo risolto Un bel niente Proprio perché Non sanno giocare E vogliono soltanto Il potere per loro Questo è quello Che succederà Come volete vedere Non posso farvi vedere Troppo in generale La chat Perché se c'è qualcuno Che sta guardando i miei video Delle alleanze Possano intuire Magari poi Attaccarci ancora prima Comunque Quello che faremo noi Adesso Come volete vedere Siamo in questa zona qui Siamo rimasti Che eravamo entrati Nella zona di livello 2 E quello che faremo noi Attualmente È prenderci Gli altari Quindi prenderemo Gli altari Prenderemo i premi Degli altari Dopo subito La conquista degli altari Ci sposteremo di regno E andremo nel 2239 Tutto questo avverrà Nel giro di qualche giorno Perché attualmente Mancano due giorni 18 ore Più il giorno Della sbloccatura Degli altari Quindi in totale Tre giorni 18 ore A partire da adesso In pratica Ci vorrà Oggi a martedì Mercoledì Giovedì Ci vorrà Sabato mattina Credo Sabato pomeriggio O precisamente Non so Quale giorno sia Comunque ci vorrà Sabato Per far sì Che conquisteremo Gli altari E poi Ci trasferiremo Diciamo con questa cosa Avremo anche la fortuna Di Prendere doppi premi Perché prenderemo I premi degli altari Qui ma quando andremo Nel 2239 Essendo che sono Cinque giorni indietro Da questo regno Faremo di nuovo I premi degli altari Quindi diciamo Che è anche una buona cosa Per avere doppi premi E devo dirvi Che non è da sottovalutare Per chi se lo stesse chiedendo Volevo anche annunciare questo Ho tantissimi video Da fare ragazzi Non ho mai tempo Di farvi niente Ho tantissime cose Da dirvi E non mi dispiace Veramente tanto Sono anche fermo Con la serie Di dove vi spiego Gli eroi Ho tantissimi aggiornamenti Da darvi Non ho mai tempo Di farvi niente Comunque per chi se lo stesse chiedendo Io non ho mai shoppato Ok Cioè ho shoppato Ma ho shoppato 50 euro Di cui ne ho spesi 45 Di cui Quei 45 5 Gli ho spesi Grazie al bonus Che vi dà L'inizio del 50% Di sconto Sulle gemme mensili Quindi ho speso 5 euro Su quelli Ho preso in totale Se non erro 20 o 22.000 gemme E da quel coso E gli altri 40 euro Gli ho spesi Comprando i pack Costruttore Costruttore Come cavolo si chiamano Questi qui La coronazione del re Che vi dà Di velocizzazione In pratica Ho preso Quelli lì Agli inizio Più o meno Perché Volevo sbloccare Velocemente Le t3 Perché all'inizio Volevamo Diciamo Aspanderci Abbastanza velocemente Cercare di Facimolare Più persone Forti possibili Però alla fine Non andate in quel modo Quindi Ci ho buttato Quei 50 euro Tra virgolette E basta Quindi Non ho nessun tipo Di vantaggio Per quanto riguarderò E altre cose Quindi tutto Quel potere Che voi vedete L'ho fatto Semplicemente Giocando Facendo eventi E basta E Vi voglio far vedere Anche così Vi dà anche Qualche aggiornamento Su cui Non mi sono andato A finire Allora Nell'evento Due eventi scorsi Non mi ricordo Insomma Qualche giorno fa C'è stato un evento Dove potevi fare Del potere E chi faceva il potere Più alto Prendeva statue d'oro Statue epiche Praticamente Ho bustato tantissimo Lì ho fatto All'incirca Un milione di potere Quasi Ho fatto quasi Solo milioni di potere In quell'evento Sono arrivato Quarto Quinto Non mi ricordo Comunque Nella posizione Tra i quattro e decimi E ho preso Qualche stato d'oro E qualche statua epica Perché ho bustato Praticamente il castello Fino al 21 Ho sbloccato La prima t4 Naturalmente di fanteria Perché per chi non scioppa La fanteria Per forza dovete farla Se non scioppate Fate solo e soltanto Fanteria Puntualizzatevi tutto Sulla fanteria Perché se no Non ha senso E la cavalleria Soltanto per chi scioppa Gli arcieri Non saprei cosa dirvi Ma degli arcieri Ne vedo Pochissimi Non so come siano gli arcieri Non ho mai sentito parlare Di nessuno degli arcieri Su questo gioco Eppure Gli arcieri battono la fanteria Per chi non scioppa La fanteria la utilizza Quindi Probabilmente degli eroi Non shop D'arcieri Non so come esattamente Come funziona un giorno Magari Non andremo a vedere Più nello specifico insieme All'ognimono Tutto il potere che vedete Dopo esattamente 43 giorni di gioco Che non sono effettivamente 43 Ma sono bensì 6 giorni meno Quindi in totale Sono 36 giorni Perché quella settimana Che ho giocato L'ho fatta In attività Quindi soltanto Di produzione Di truppe di t1 Perché abbiamo fatto Il jump Di regno Se voi lo ricordate Ho fatto il jump Di regno Per avere un vantaggio All'inizio Di truppe Di potere Di costruzioni Già tutto quanto Al massimo Al massimo Di livello 7 Così di avere Una buona base Di partenza Calcolate ragazzi Che con quel trucchetto Se voi Truppate Di continuo Quindi ogni ora Entrate sul gioco A mettere le truppe A fare Nel giro di 6 giorni 7 giorni 8 giorni In base al tipo Di tempo Di tempo Che voi Volete utilizzare E potete Giampare Se voi Entrate ogni ora Vi fate All'incirca Prima di Giampare 100.000 T3 Ok 100.000 T3 Vi fate Non sono pochi Sì scusate T3 T1 Volevo dire Non sono pochissime Anzi sono veramente tante Perché appena Giampate 100.000 T1 Sono veramente tante Se vi starei chiedendo Com'è possibile È possibile Ve lo faccio vedere Perché con il livello 7 Producete esattamente 300 truppe Per 4 Sono 3 6 9 12 Sono 1200 Truppe l'ora Non dico che fate Per 24 ore Ma Lo fate almeno Per 15 ore Almeno 15 volte al giorno C'entrate Perché penso che 15 ore svegli Ci state Almeno Specialmente Se siete ragazzi E Calcolate la media Di 1000 truppe Per 15 ore Sono una media Facciamo Meno truppe Calcolate una media Di 15.000 Truppe al giorno Per 6 giorni 5 giorni Sono 15 30 45 60 75 Se ne sei giorni Sono 90.000 Truppe Se fate 7 giorni Sono 100.000 Truppe Io ho fatto Un conto paro Vi ho detto All'incirca 100.000 Truppe Non sono 100.000 Ne fate 90.000 Ne fate 80.000 Sono comunque tante Ne fate 60.000 Sono comunque tante Voi partite con un vantaggio Di 60.000 Truppe Di livello 1 In più È vero che poi Quando fate il castello Di livello 8 O 9 Adesso non ricordo Precisamente Sbloccate le t2 Ma comunque Partire con 70 80 90.000 Truppe Di livello 1 Di vantaggio Agli inizi È una cosa Che fa paura Voi calcolate Adesso Io no D'esempio A parte che me ne sono morte Un po' le truppe Lasso attualmente O 350.000 Truppe Voi calcolate Di partire Di avere adesso Invece 350.000 Truppe Invece di avere 350.000 Ne avete 450 Ok Tu dici Adesso T1 Per quel livello Sono t1 Contro t1 Adesso sono t3 Contro t3 Voi pensare di avere Invece di 350.000 T3 Di averne 450.000 Di t3 E fa veramente Tantissimo La differenza Ragazzi Cioè 100.000 Truppe Di livello Del tuo stesso livello In più Sono veramente Tante Quindi non sottovalutate Queste cose Se iniziate da 0 Fate questa tattica Perché vi dà Un grandissimo vantaggio Oltre al fatto Che partirete Nel nuovo regno Con tutte le ricerche E tutte le costruzioni Già di livello Massimo Per quel livello Del castello Quindi non è da sottovalutare Anche quella cosa Perché comunque Ci vogliono Per maxare Tutto il livello 7 Anche per quanto riguarda Le ricerche Almeno 3-4 giorni Di meno non ci mettere Se non shoppate Naturalmente Se fate quel giochetto Non usate mai E dico mai Né acceleratori Né risorse Per quanto riguarda Lo zaino Perché non avrebbe senso Perché nel giro Di una settimana Comunque Comunque Senza usare Acceleratori Senza usare risorse Ce la fate Molto semplicemente A potenziare tutto Prima che vi trasferirete Naturalmente Non avete fretta Portate il prima possibile Le strutture Di livello 7 Il castello del 7 Così ti potete portare Prima sulle strutture Che producono Le truppe A livello 7 Così ti potete Stare più velocemente Le truppe Questo è tutto Il video sta durando troppo Mi sono prolungato Sui discorsi Che non servivano a niente Il video durando 13 minuti Quindi mi fermo qui Mi ho dato questo breve Aggiornamento La cosa più importante E già ve l'ho detto Agli inizi E Su per quanto riguarda Per quanto riguarda Praticamente Il trasferimento di legno Oggi uscita La ruota di Riccardo E l'ho prese L'ho soltanto sbloccato Per chi mi è stato consigliato E soltanto di sbloccarlo Usare tutte le altre gemme Per sbloccare Il più velocemente possibile Il VIP di livello 10 Questa cosa Già la sapevo Naturalmente L'ho messa in atto Nonostante il consiglio Che mi sia stato dato Naturalmente L'ho soltanto sbloccato Le altre teste d'oro Le ho usate per Riccardo Dove è Riccardo? Eccolo qui Attualmente Ho portato su anche La seconda abilità Perché se non lo sapete Con l'ultimo aggiornamento Che è stato introdotto Abbiamo la possibilità Di poter decidere Che tipo di Che tipo di abilità E maxare Volendo voi potete Lasciarla così salvate E quando andrete indietro A potenziare l'abilità Vi potenziarà Obbligatoriamente La prima abilità Se invece voi Cambiate E mettete due In questo caso Avete la possibilità Di potenziare Una prima O la seconda Naturalmente Ma random Non potete scegliere Che comunque Se sbloccare tutte e quattro Subito Non potete scegliere Che di maxare Direttamente la quarta Invece che la prima Perché non è possibile Comunque Potete scegliere Però se maxare Se ne sbloccate una Cioè se sbloccare Quattro abilità di attenzione Volete scegliere Se maxare da prima Alla prima Poi la seconda E poi la terza Senza che magari Vi va a random Direttamente sulla quarta Quando magari Vi sa che la seconda abilità Diciamo che non è Il massimo vantaggio Che vi poteva dare il gioco Però in questo modo Vi limita comunque Ad avere il massimo vantaggio Perché se no Sarebbe una cosa Molto molto forte Scegliere effettivamente Quale tipo di abilità Vuoi maxare E Diciamo che vi limita un po' E ci sta Ad ogni modo Ho portato Riccardo 3-1 Naturalmente ricordatevi Che la prima abilità Va sempre maxata Su qualsiasi eroe Perché l'abilità Attiva Quindi l'abilità principale Dell'eroe E l'abilità che va sempre maxata Quindi Ricordatevelo Questa cosa qui Continuiamo ad utilizzare Le altre tre teste Per potenziare Riccardo Ho anche Carlo Martello Sbloccato Ma in questo caso Soltanto di livello 1 E attualmente Non lo potenziarò lui Perché sto potenziando Riccardo Visto che Riccardo È un po' più facile Da ottenere Grazie alle ruote Che ci saranno anche in futuro Carlo Martello Ci sarà poi Le MGE di Carlo Martello Però voi sapete Che c'è gente che shoppa Quindi non si faranno mai teste d'oro E quindi Sto puntando a Riccardo Per prenderlo poi Anche in futuro Insomma Sto puntando a Riccardo Che è un po' più facile Da potenziare Con tutte le altre gemme Che avevo Ho usato anche tutte le altre gemme Degli inventari Come vorete vedere Adesso me ne sono rimaste Soltanto 150 Ho potenziato tutto quanto Il VIP L'ho portato fino al livello 9 A 100.000 punti Quindi Sono quasi al VIP Di livello 10 Mi mancano 50.000 gemme Credo che Con questo evento Degli altari Presi in questo regno Più altari E tutti gli altri eventi Che ci saranno Fino alla fine del regno Insomma che si concluderà Tutto il regno Nell'altra parte Credo di riuscire A fare abbastanza gemme Per poter potenziare Il VIP a livello 10 Molto molto importante Raggiungere il VIP Di livello 10 Perché Vi dà una testa d'oro Una testa d'oro E una chiave d'oro Al giorno Ok Una testa d'oro E una chiave d'oro Al giorno Vuol dire che Ogni mese Ottenete una media Di Una media Ottenete 30 testa d'oro Al mese E sono tantissime Ragazzi Le teste d'oro Sono importantissime Sono importantissime Dico importantissime Da ottenere Prima l'ottenete Meglio è Invece qui Con le forze Di livello 9 Cioè Scusa Il VIP di livello 9 Ottenete chiave d'argento Scultura epica Mentre qui Ottenete chiave d'oro Scultura d'oro La differenza Si fa sentire Il top sarebbe portarlo A livello 12 Perché otterrete Ben due teste Però a livello 12 Se non erro Ci vogliono 250.000 punti VIP Il massimo Sarebbe da portare Al VIP 15 Se non erro No VIP 14 Dove ottenete 14 Tesi 14 Ottenete tre teste Ma qui si parla già di altri livelli Naturalmente Però in top sarebbe Innanzitutto portarlo Al VIP di livello 10 Così ottenete una testa d'oro Al giorno E con una testa d'oro Al giorno Finatevi che Iniziate veramente A sentire la differenza Detto questo ragazzi Devo chiudere questo video Perché sono 18 minuti Spero che vi sia stato chiaro Tutto ciò che ho detto Spero che vi sia stato utile Tutto quello che vi ho raccontato E come vi ho consigliato Di muovervi Spero di incontrarvi In futuro Dove ci riusciremo A riunire Sto provando a contattare Anche altre persone Per riunirci in futuro Sperando di riuscirci Se il video vi è piaciuto Naturalmente Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Così rimanete aggiornati Sempre Quando uscire un nuovo video E naturalmente Ragazzi La cosa che voglio Di più da tutti È che mi commentiate Qui sotto nel video Così possiamo Parlare tra noi E rimanere in contatto Mi fa piacere Che tantissimo Rispondere alle domande E ai commenti Che voi fate In generale Naturalmente Che non siano offensivi Perché Critichi Critici D'apprendimento Critici Diciamo che Fare dei commenti Critici Ok Ma se fate Dei commenti Offensivi Evitate Perché Non avrebbe neanche Senso C'è neanche Vi risponde I commenti Critici Vi segnalo Semplicemente Basta E per fortuna Non ci siete Però Se dovessero Spuntare fuori Sappiate Che succederà Una cosa del genere Perché Non accetto Commenti Offensivi Ma accetto Commenti Critici E concetto Anche commenti Dove Mi dice Dei Sfumazzo Tu sei bravo Scherzo Ragazzi Dai vi lascio Qui Spero che vi Avesse Vi è piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo Episodio Ciao Ciao